Scadranno il prossimo 29 gennaio le iscrizioni al Master dell'Università di Camerino in diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro che si terrà a Civita Nova Marche. Il Master di secondo livello in diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro è un progetto di formazione post lauream dell'Università di Camerino per il professionista esperto di sicurezza destinato ad operare nel settore pubblico o privato, industriale dei servizi e pronto a cogliere tutte le implicazioni giuridiche, economico-finanziarie ed organizzative della sicurezza. Il Master è ideato per soddisfare le esigenze culturali e professionali di manager, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, medici del lavoro, personale di varia qualifica dipendente di strutture pubbliche e private, membri di organismi di controllo e vigilanza, internal auditors, ispettori del lavoro, ufficiali delle forze armate o di polizia. Il Master di secondo livello in diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro nasce per andare incontro alle esigenze che ci sono state manifestate proprio dal mondo dell'impresa e dagli imprenditori. L'idea del Master è proprio quella di offrire all'impresa un momento di formazione per fronteggiare il rischio penale in relazione agli incidenti sul lavoro. I docenti sono professori di dito penale, professori di procedura penale d'impresa, magistrati e avvocati che si occupano della materia, ma soprattutto esperti dell'organizzazione, esperti dell'antinfortunistica. E quindi uno degli aspetti caratterizzanti di questo Master è l'approccio multidisciplinare. Il Master di secondo livello in diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro è rivolto senz'altro ai giuristi, quindi senz'altro agli avvocati, ma è rivolto anche ai consulenti del lavoro, è rivolto a chiunque si occupi di ufficio legale di un'impresa e a chiunque all'interno dell'impresa si occupa di sicurezza sul lavoro. E per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.unicam.it alla sezione Master.